La nostra voce non è necessaria la voce, ma non è necessaria la voce preparata. Ok, mi interrupa e non seguire. Ah, ci vediamo. Grazie a tutti. 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 Per 177 miliardi di euro mangeresti per tutta la vita merda di dinosauro? Per 10 centesimi al secondo? Giocheresti in nascondino con Stevie Wonder? Ti faresti una scopa d'assi con il conte Vlad, detto anche Dracula? Per 177 miliardi di euro? Si siede? Bene. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.